Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Scacchi Scacchiera Rane Vostro. Base e personaggi della gioco di scacchi, rane contro topi creazione originale di Paolo Chiari Firenze. In resina, dipinto a mano. B A T R A C O M I O M A C H I A Il re delle rane gonfiagote persuade il timoroso rubabriciole, re dei topi, a montare sulle sue spalle per visitare il lago, assicurandolo che non correrà pericoli. Tuttavia, appare all'improvviso un serpente d'acqua e gonfiagote, per sfuggirle, si immerge, facendo così annegare rubabriciole. La guerra scoppia immediatamente, e proprio quando la vittoria sembra ormai dei topi, Zeus scaglia il suo fulmine, e allo stesso tempo, i granchi giunti sul campo di battaglia annientano i topi facendoli a pezzi. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.